Lui che ha servito meglio in questa serata, l'Americano, piazzare un pallone, problemi per l'Osmane Montorena, va a piazzare Nelco, Vizionato Arnazioni, la sera in minare, per la seconda volta che la storia, questa breve storia ma intensa della formazione di Perugia, trova la finale, ci sarà per la seconda volta con Vankovac perché era su quella panchina, quando poi la terza contro l'ex Margerata, una grande stagione nel finale di una sera che ha capovolto il suo percorso in un grande finale di campionato e va a prendersi al mezzo di gara 4, una finale veramente da capovolta.